Non può esserci vita senza ordine. Bene, male, tenebra, luce, deve esserci equilibrio nell'universo. Così ha decretato l'Arso Consiglio, una corporazione incaricata dal Creatore di preservare il tessuto stesso dell'esistenza. Ma l'equilibrio è stato spezzato ancora adesso. La Terra è ridotta a una rovina in mano ai Signori dei Demoni e il Distruttore si ritaglia un nuovo regno tra i suoi potenti eletti. Alcuni dicono che fu il Cavaliere Guerra a scatenare l'Apocalisse. Si recò sulla Terra, non richiesto, condannando con il suo gesto l'umanità. E riguardo agli altri Cavalieri? Prodi esecutori degli Ordini del Consiglio come furia, conflitto e morte. Per conoscere quei nomi, devi prima conoscerne un altro. Nephilim. Il frutto dell'unione tra angeli e demoni. I Nephilim misero a ferro e fuoco diversi regni, riducendoli in cedere. Ma quattro di loro si stancarono del massacro, temendo che avrebbe messo a repentaglio l'equilibrio. Fu dunque stipulata una tregua. I quattro avrebbero servito il Consiglio, in cambio di poteri inimmaginabili. Così nacquero i temibili Cavalieri, il cui primo incarico fu purificare il creato eliminando i fratelli, per annientare i Nephilim e distruggere le loro anime. Concentriamo ora il nostro sguardo su uno di questi quattro. Non su guerra, che incatenato ai piedi del Consiglio, proclama la sua innocenza, ma... su chi salverebbe suo fratello? Prima di tutto. Lui ha molti nomi. Poglia. Fratricida. Per noi è morte. In cambio della libertà di guerra, morte giurò di far rinascere l'umanità. Ma non sapeva come fare. E così morte si avventurò nell'Algido Velo, in cerca del custode dei segreti. No. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Non è posto per un cavallo. Sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Maledico! E quanto maledico quel giorno! Vada, padre Corvo. Non posso porre fino alle tue sofferenze. Non ancora. So perché sei qui. Tuo fratello, quello che chiamate guerra, è stato imprigionato dall'Arso Consiglio e aspetta di conoscere il verdetto. Per aver distrutto la Terra, portato l'umanità all'estinzione. Cosa mi importa del destino di tuo fratello? Perché tu sai la verità. I tuoi segreti possono salvarmi. Il Consiglio condannerà guerra. Lo esautorerà e lascerà marcire nell'oblio per nascondere la verità. I miei segreti non possono scagionarlo, Cavaliere. No, ma possono aiutarmi a cancellare il crimine. Far rinascere l'umanità estinta è una follia. Se è una follia, chi meglio di te può mostrarmi la via? Se esiste un modo, è qui che lo troverai. L'albero della vita. Fa me passare. No, non ancora. Ciò che mi hai dato, lo riavrai indietro. In cambio dei suoi segreti, custodirai il talismano. No, le voci maledicono e minacciano senza sosta. Voglio non ritornare. Tu devi distruggerlo! Non posso. Hai distrutto i loro corpi. Perché proteggi le loro anime? Apri il portale. Non potrai passare finché io sono vivo. E così sia. Qui i tuoi fratelli sono intrappolati nell'incubo. Vuoi unirti a loro? Che ne dici di guerra? Uccideresti tuo fratello pur di salvare l'equilibrio? Lui è innocente. Ne sei proprio sicuro? Che ne dici di guerra? Che ne dici di guerra? Che ne dici di guerra? Grazie a tutti. I tuoi segreti muoiono con te, vecchio stoltore. I miei segreti... ma non i tuoi. Gli innumerevoli mondi del nostro universo... vorticano in un abisso infinito. Molti mondi devastati dal tempo o dalla guerra... sono inghiottiti dall'abisso... e sono restituiti al nulla dal quale sono nati. Ma altri sono sospesi per l'eternità... sull'orlo della rovina... e la creazione... è compensata... dalla distruzione. E negli attimi finali della battaglia... Morte fu esiliato su uno di questi mondi... un mondo al crepuscolo... imbili... sulla soglia delle tenebre. Per morte era forse giunta la fine? La risposta va cercata nel futuro del cavaliere... e nel suo passato. sta fermo cavaliere... sei ferito. non toccarmi. Il tuo arrivo è un cattivo presagio. Sì... mi turba molto. Vecchio... avrai altro di cui turbarti se non la smetti di blaterare. Dov'è l'albero della vita? Vita? Il mondo sta morendo, ragazzo mio. Soffocato dal caos... e dalla corruzione. Non c'è molto che possiamo fare. Presto... anche il grande albero morirà... e con esso... i sopravvissuti del mio popolo. Non è per questo che sei qui, Cavaliere Pallido. Io cerco l'albero. Il caos e la corruzione non mi interessano. Sembra proprio di sì, invece. Ascolti! Sì... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiutala e lei ti aiuterà a raggiungere l'albero. Quanto a me, devo tornare al mio lavoro. E chi sei tu per dare ordini a un cavaliere? Sono un cavaliere con queste mani. Ho gettato le fondamenta di molti... Ma molto tempo è passato e ora ha malapena... Non sei curioso di sapere... Non oserei far domande a uno dei quattro, ma sì, dimmelo. Devo far rinascere l'umanità per riscattare guerra. Paradiso e inferno lottano sulla terra devastata. Tutto il creato trema. E al centro di tutto c'è tuo fratello. Lui è innocente. Ma hai detto il contrario. L'albero domina sulla vita e sulla morte. Se vuoi far rinascere l'umanità, stai andando nella direzione giusta. Ma sappi che ora l'albero è abitato da una presenza oscura. E il sentiero è bloccato dalla corruzione. L'albero è abitato dalla corruzione. L'albero è abitato dalla corruzione. L'albero è abitato dalla corruzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non la puoi scalfire. Puoi solo uccidere le sue vittime. Ogni colpo inferto alla corruzione è un colpo contro il mio popolo. Medita sulle mie parole, cavaliere, prima di darmi del cotardo. Mi conviene scaldare i muscoli prima di provare quella mossa. Posso mettere fine ai tuoi bene. Questa lama è più antica di te. Vuol dire che ridurrò lei e te di qualche taglia. Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Mi hai avuto abbastanza della vecchia Bess? Ha ha ha! Ce l'è! Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Nessun cavaliere può battermi. Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. 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 Ti stavamo aspettando, cavalier. Da tempo la tua ombra incombe su questo... Molti conoscono il mietitore, antica, ma io non conosco te. Siamo i costruttori di questo mondo, ma la corruzione ribolle nel suo cuore e distrugge in fretta ciò che abbiamo costruito in un'eterno. Haidard cerca di alleviare il nostro dolore, ma le nostre anime ambismorte. Non abbiamo speranze. Dimmi, sciamana, che cos'è la... So solo quello che temo che sia. La corruzione è odio vivente. E quell'odio non proviene dagli alberi o dalle pietre, ma da noi stessi. Parlami ancora dell'albero della vita. La foresta che lo circonda è stata corrotta. Ha fame. Non puoi raggiungere l'albero, almeno finché respiri. Tu ti disperi, antica. Eppure fai sorgere la vita. Sono una sciamana, vincolata al suo compito anche... Siamo come la vite, che spunta dalle radici. Fiorisce e avvizzisce. Un cerchio che non ha mai fine. Io non lo posso... Il destino di un fratello ti turba. È il... Pietra, legno, ferro... Questi sono i... Ciò che era vecchio è tornato nuovo. Qualcosa ti preoccupa? Cavaliere, dubiti... No. Dunque, sei di quelli che farebbero di tutto per cambiare... La strada che ti aspetta è lunga e pericolosa. E tu che c'entri, sciamana? Io sono abile nel confezionare talismani. Se mi... Cosa ti serve? Osso di predatore, rugiada mordace e pietra intagliata. Dove posso trovarli? Da qualche parte nelle terre della forgia. Io esco di rado da tripietra, ma quel giovanotto carne... E se... Cosa ti serve? Grazie a tutti 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 Salve Grazie a tutti 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 Grazie a tutti